Stefano Scaduto, presidente del Comitato di Quartiere Sant'Agostino di Sciacca. Ieri c'è stata questa interessante riunione al Comune, all'interno della quale avete chiesto la realizzazione di un parcheggio ad est di Sciacca. Che cosa è successo? Quali sono le risultanze di questo incontro? Sì, il Comitato di Quartiere Sant'Agostino da tempo chiedeva un incontro con l'amministrazione comunale per discutere di tante problematiche che riguardano il quartiere. Ieri ci siamo principalmente focalizzati però nella realizzazione di alcune opere infrastrutturali di cui il quartiere necessita, ma secondo noi necessita l'intera città. In particolare di un collegamento viario fra la via Sant'Agostino e la via Carrozza che possa bypassare la parte finale della via Ravacio e della piazzetta davanti alla chiesa di Sant'Agostino dove ogni mattina all'entrata e all'uscita della scuola c'è un traffico caotico come anche in alcuni altri periodi dell'anno, per esempio a Carnevale, per esempio a Ferragosto e in tante occasioni di festività. E poi chiede la realizzazione di un parcheggio pubblico in un'area che attualmente è incolta e che verrebbe riqualificata. Ma insieme a noi residenti del quartiere Sant'Agostino lo chiedono fortemente questo parcheggio anche gli operatori dipendenti della scuola, i genitori degli alunni, dei bambini della scuola elementare Sant'Agostino e una serie di associazioni di commercianti, operatori turistici, l'associazione dei ceramisti in particolare, la Conf Commercio Provinciale, l'associazione Agrigento Extra degli operatori turistici, l'associazione Spazio Centro e ultimamente si è associato a noi anche il consorzio turistico Sciacca Terme e a breve credo che anche il Museo dei Cinque Sensi aderirà alla nostra proposta perché è una proposta di interesse generale, cioè dire la realizzazione di un parcheggio all'ingresso della città che non porta traffico veicolare e inquinamento dentro la città, che non prevede disboscamenti, abbattimenti di alberi già esistenti ma anzi che consentirebbe la piantumazione di nuovi alberi e la riqualificazione di un'area, ripeto, incolta e consentirebbe, diciamo, di liberare le strade attualmente intasate della zona S di Sciacca anche ai turisti, ai turisti provenienti da Sciacca Mare, dal Golf Verdura Golf Resort oppure dalle spiagge dove ci sono tanti altri insediamenti ricettivi che potrebbero parcheggiare all'ingresso di Sciacca e poi raggiungere il centro storico in pochissimi minuti. Voi avete presentato già anche un'ipotesi progettuale per un parcheggio a raso di circa 100 posti. Che cosa vi hanno detto dal Comune? Il Comune ha accolto positivamente, cioè gli amministratori hanno accolto positivamente la proposta. Naturalmente ci sono delle valutazioni di natura tecnica che devono essere fatte ma noi attendiamo, diciamo, l'esito di queste valutazioni con molta fiducia, così come attendiamo con fiducia eventualmente tutte, come dire, le necessarie, aperte alle necessarie modifiche, perché diciamo il progetto è solo un'idea, è una bozza, un suggerimento che poi potrà essere stravolto come gli amministratori e i tecnici riterranno più opportuno. In passato si sono fatte delle opere che hanno previsto anche delle varianti ai piani regolatori che forse erano meno utili e meno, diciamo, di interesse generale di questo. Eventualmente, se fosse necessario anche una piccola variante al piano regolatore per la realizzazione di questo parcheggio, noi attendiamo che venga fatta perché si tratta di una realizzazione di un'opera veramente utile per tutta la collettività e non solo per quella zona della città. Per la bretella di cui parlavo prima non è sicuramente necessaria alcuna variante al piano regolatore. Quindi attendiamo con fiducia l'esito delle analisi, degli studi tecnici che verranno portati avanti da parte dell'amministrazione comunale e insieme a tutte le altre associazioni con le quali è stato praticamente realizzato un coordinamento, in futuro ci rivedremo con l'amministrazione per continuare l'interlocuzione con loro. Adesso è soltanto l'inizio. Si sono mostrati aperti, così come avevano detto alla presentazione, alle istanze della città e delle associazioni di categoria, dei comitati di quartiere. Verificheremo naturalmente passo passo se questa apertura poi continuerà nel tempo e porterà concretamente, che è quello che ci interessa, alla realizzazione delle opere infrastrutturali che sono veramente di interesse generale.